All'ovale perfetto e gli occhi azzurri della suocera Ilari Blasi. Melissa Monti, 19 anni, è la fidanzata di Christian Totti da circa tre anni, anche se il loro amore è stato reso pubblico solo da poco più di un anno, quando lei ha accompagnato il fidanzato a una partita delle giovanili della Roma. A Gossip Diva fa Piacere che tu ti iscrivi al canale e attivi le notifiche, i prossimi video li farà con più entusiasmo. Grazie! Sempre più spesso, il diciottenne calciatore e la sua compagna condividono foto e video insieme sui social. In particolare, dopo una serie di immagini su TikTok in cui la coppia si mostra insieme, i follower hanno evidenziato l'incredibile somiglianza tra Melissa Monti e Ilari Blasi quando aveva la sua età. Lei è veramente bella, commenta un utente. E un altro, praticamente Ilari, somiglia alla suocera. Lei sembra Ilari. È uguale all'ex moglie del grande capitano. Alcuni invece trovano una somiglianza con l'attrice Ornella Muti. Anche nelle foto meno recenti, i follower avevano notato la somiglianza tra suocera e nuora. Quando ho visto questa foto, per un attimo, ho pensato fossero Ilari e Francesco da giovani. Melissa è un'attrice con esperienze significative. Oltre ugly spot pubblicitari, ha recitato in film come La grande bellezza di Paolo Sorrentino e in fiction come Mi chiamo Maya, il tredicesimo apostolo, e Solo per amore. Ma è anche un'imprenditrice, con una linea di abbigliamento venduta online e spesso pubblicizzata proprio da Ilari Blasi nelle sue storie. Cristian Totti, invece, ha seguito le Orme del padre. Gioca a calcio in Spagna, al Raio Vallecano, terza squadra di Madrid. 18 anni compiuti lo scorso novembre, è cresciuto con la maglia della Roma e ha iniziato la stagione nel frosinone primavera, dove però ha trovato poco spazio. La decisione quindi di voltare pagina e andare in prestito, cambiando nazione, squadra e campionato. Non si sa se su Consiglio del padre. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Lascia un commento e un like.